Ragazzi ed eccoci ritornati su Resident Evil 2 LPD Oggi ci riprendiamo la vecchia parte solo che l'ho dovuta rifare tutta da copio perchè non sono riuscito a fare il salvataggio Noi eravamo arrivati precisamente qui Dovevamo scegliere questa strada o questa No se non sbaglio avevamo già scelto questa Non ti fidare degli ebeti ti hanno detto Questo mo' si rianima Sinceramente no non ci sto Mi dispiace non ci sto Così non si può giocare prenderò provvedimenti assolutamente No dai no 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 Youtube è un gioco vede Si divertono loro a fare queste cose Si divertono loro a fare queste cose Non è che Cioè per loro è un gioco Si mi faranno molto male Non sfondarla con un calcio no eh Troppo troppo duro Che hai fatto di piombo il vetro Si Dal ve Ma non vorrei che mo' questa qui si rialza No 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 signora 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 non facci così Guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava Signora non facci l'arrabbiata perché poi la devo arrestare Weapons Locker Key Card Però prendila Ti ho detto prendila Macchinetta del caffè Eh no rapporto Eh non credo che mi servi il rapporto Credo ci sia tempo per fare rapporto Mettate la città Credo ci sia tempo per fare il gioco ha già ragionato su tutte le dinamiche cioè è fatto veramente bene questo gioco però quello lì no buongiorno e io me ne vado da qui poi faccia lei ha rotto il vetro ha rotto il vetro ha rotto il vetro carica uccelli ho scarrellato un caricatore intero merda bellissima abbiamo finito i colpi mo si ma un attimo ci curiamo con ma io ora come devo fare senza colpi non c'è lavoro combinano con la pistola no non buono ma ma mi mangiamo bene come sta come sta allora 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 ma che caga non buona questa qua sembra non buona sì che non è buona perché non lo mangia neanche un calabrese come sono letteralmente fatto tutto a colpi per il fucile peccato che non ho il fucile avesse avuto il fucile avrebbe stato un bell'affare no mi devo difendere col coltello sono troppo contento ragazzi sono troppo contento vi posso portare un sacco di nuovi contenuti madonna rega voi non non mi inizia una bella box fight carica allora r d t r c d q c t ma dobbiamo trovare una chiave a chiacqua di foglio andava all'ultimo piano se non sbaglio lo che mi scoccio di scendere o cos'è stato è apparuto gesù niente di che vuoi proseguire tu ma lui comunque c'è sì però secondo me qualcosa l'ha buttata ora troviamo la weapon's weapon room ah borsello la mia compagna che è tanto famosa che dovrebbe venire andiamo qui andiamo qui ora secondo me bisogna scendere su sono martin vieni qui appena puoi stai bene martin ho qualcosa da mostrarti è importante ricevuto arrivo subito eh ma tu non puoi dire arrivo subito e ti trovi dall'altra parte perchè ma qua sotto c'è gente e tu dovresti ringraziare al signore che non si alzino tutte e 18 che stanno qua a terra quello si alziamo che ci passa c'è ma fate talmente così schifo che mi mangiate uno con l'altro no carica questo qua sembra non buona sì che non è buona perchè non lo mangia neanche un calabrese buona giornata è però il coltello te lo devi riprendere chi fa il coltello è in perico eh volevi ciao si sono sviluppati e andandoci dirci lascia le penne dice la serpenne qua mannaggia loro scappa scappa no 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 ma già te si la chiama quadrifoglio usa la usa la usa si apre si apre mamma mi ringraziamo addio che non lo spugaggio un peppino peppino sono messo male però gioppico un po si impalle ho sempre la ho sempre messi ma la fa chi è questa qui ce l'ha fatta la conosci si si chiama claire sono arrivato con lei sono troppo contento ragazzi sono troppo contento che posso portare un sacco di nuovi contenuti madonna rega voi non puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra alla est e mai sono messo male capito grazie abbiamo superato il kilowatt simon ritorno a zoppicare prima tutto grazie per aver giocato tentativo a quindi così si conclude con la suspense bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto visto che si conclude qui da karate 10 out ciao